Quali sono le principali problematiche per gli intermediari finanziari nell'applicazione del CRS? Innanzitutto gli intermediari devono capire quando avviare il progetto CRS, perché il progetto CRS ha molte sinergie con il FATCA e quindi la scelta del timing corretto potrebbe ridurre l'impatto in termini di costi di implementazione. Quali sono gli altri aspetti che devono essere affrontati? Certamente dobbiamo considerare che il CRS dovrà essere recepito da una normativa locale. La normativa locale non è stata ancora pubblicata e quindi l'implementazione immediata del CRS potrebbe essere necessaria per i grandi gruppi multinazionali che dopo il primo avvio dovrebbero probabilmente effettuare alcuni aggiustamenti di allineamento con le interpretazioni che verranno diffuse nella normativa locale. Un ulteriore impatto importante in termini operativi è l'informativa che dovrà essere fornita alla clientela. In questo momento ai fini di FATCA la clientela coinvolta in termini di potenziali segnalazioni è solo la clientela statunitense. Questo nel passaggio al CRS diventerà soltanto un piccolo insieme delle segnalazioni che invece dovrebbero coinvolgere clienti fiscalmente residenti potenzialmente in 51 paesi con cui l'Italia ha stipulato l'accordo di scambio di informazioni con il CRS. Quali sono le sinergie possibili tra FATCA e CRS? Il CRS applica logic comuni al FATCA e quindi le interpretazioni ministeriali che dovrebbero essere pubblicate a breve per l'applicazione del FATCA potrebbero costituire una chiave di lettura per l'avvio del progetto CRS.